Perché acquistando l'extravergine Fratelli Carbone potrai essere certo di mettere in tavola il profumo dell'olio appena franto? Beh, confezioniamo l'olio in frantuio e lo spediamo a casa tua senza intermediari. Per essere certi di preservare la freschezza dell'olio, lo conserviamo nel nostro frantuio a temperatura controllata ed in assenza di ossigeno. Lo confezioniamo solo al momento della spedizione. Lo senti già l'intenso profumo di fresco? Ogni volta che aprirei la tua bottiglia quel profumo lo sentirai sempre. Abbiamo scelto di occuparci personalmente delle vendite perché vogliamo essere certi che fino a quando l'olio non arrivi sulla tua tavola sia conservato nel migliore dei modi. Seguendo personalmente le vendite e l'assistenza miglioriamo costantemente l'attenzione rivolta al cliente. Solo così possiamo creare con i nostri clienti il rapporto di fiducia e di amicizia che ci contraddistingue. Acquistando l'extravergine Fratelli Carbone puoi essere certo di mettere in tavola l'olio dall'intenso profumo di fresco, come appena spremuto. Se vuoi saperne di più visite il nostro sito www.fratellicarbone.it oppure chiama il numero verde 874 56 89. Saremo felici di consigliarti al meglio.